Musica Brutta a tutti ragazzi, qui è Ultrasoc E oggi siamo qui per il primo gameplay di Call of Duty Advanced Warfare Scusate ragazzi se parlerò un piano, però è tardissimo È veramente tardissimo raga Sono tipo le luna e mezza Una roba del genere, è troppo tardi Perché con la case sono riuscito a scaricare prima il gioco E ho voluto portarvelo comunque per sdebitarmi Che da martedì comunque non facciamo video Perché mini scotch, ho avuto altri problemi Io sono proprio stato male, quindi non siamo riusciti a portarlo E per sdebitarmi vi porterò in anteprima Penso praticamente mondiale Non lo so Perché Voi lo vedrete domani Praticamente oggi alle 9 All'uscita della Day Zero Quindi giusti giusti Quindi adesso velocemente raga Facciamo una partitina così Giusto per farvi vedere un po' di cose Crea una classe Si possono già creare le classi Vabbè dai questo lo vediamo in un altro video Magari con mini scotch Che tanto qua usciranno video con mini scotch Trova partita Deathmatch a squadra e dominio Salvataggio, uplink, playlist Facciamo dominio raga Andiamo di dominio Cattivi proprio Nuovi oggetti Sbloccato a livello 46 Automatico Arsenale avanzato Exo arsenale avanzato Cos'è sta roba Servono altri 7 giocatori Raga io Questa è la prima volta che accendo il gioco Io non so Probabilmente non ci sarà nessuno E farò un fail incredibile Perché E' L'u Hanno aperto i server di Call of Duty Da un'ora e mezza Nessuna partita trovata raga Niente Niente raga E' Mi sa che non giocheremo qua Intanto vabbè Vediamo Allora vi faccio vedere un po' come è code Vi faccio vedere un po' le varie cose Perché io non ho visto niente Ancora personale 1 Accessori E' Mirino vabbè Questo niente Ha due accessori Qua specialità Leggero Oddio Sono entrato Sono entrato in partita raga C'è gente Pazza come me All'una e mezza Che sta giocando a code Pazza proprio Gente pazza Oddio Solar Dominio Lo scudo pesante Blocchi i proiettili Anche quando lo porti sulla schiena Gente pazza Sto giocando col controller Raga Non so niente Questa è la prima volta Come giocare a code Senza neanche aver giocato la campagna Ovviamente Ma chi è che gioca mai la campagna di code Nessuno raga Dite la verità In realtà la campagna Non l'ha mai giocata nessuno Alpha sotto controllo Madonna Qua si stanno già dando botte A tutto andare Qua mi stanno sparando E non so neanche Chi è che mi sta La sensibilità non va bene Ma proprio mai nella vita Proprio Eeeh Comandi Ok Opzioni audio Comandi Gamepad Visual Sensibilità media No no Metti 5 Come minimo Vediamo come va adesso Eh Un po' meglio dai Ok Ok Con calma Cerchiamo di fare Oddio Oddio Raga Questi sono pazzi Ok Ok Non sta andando bene Ma mai nella vita Proprio Ok Questo è il doppio salto Oh La prima kill Raga Prima kill Oh Doppia Oh va bene Va bene Raga mi sta già Mi sta già piacendo Questo gioco Io ve lo dico Un momento per ambientarmi Mi sta già piacendo Questo gioco Oddio Oddio Come l'ho fatta Quella mossa Ah Doppio tocco Si fa la spinta Eh ciao eh Domani è pomeriggio Proprio Oh Vabbè va bene Va bene Va bene Va bene Va bene Con calma Raga Con calma Con molta calma Così si scivola Di là C'è qualcuno C'è un puntino rosso Quindi Con calma Ah mi ha preso al volo Quello No 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 Bellissimo sto gioco Raga È troppo bello È troppo bello Io sto morendo troppe volte Ma è troppo bello Dai mi devo ancora ambientare Raga Questa è la prima parte Cioè lo Poi fate conto Che l'ho acceso adesso L'ho acceso adesso Sto gioco Quindi No 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 Non conquistare Non conquistare Che qua ci fa nel culo Non conquistare In realtà L'obiettivo sarebbe Conquistare Le bandiere Ma Cazzo raga Ci fanno Erculo 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 Pesante Proprio Oh cazzo Sono Ah Lì non si può andare Niente Stavo Stavo cercando Di uscire Dalla mappa Bene Dai Dai Che lezzi Siete tutti lezzi Siete Madonna Madonna Quello mi prende Con la granata Non va bene Non va bene Raga Non va bene Voi fate conto Che Sempre che Sto giocando All'una e mezzinotte Non ho messo neanche il timer Quindi non so Quanto verrà questa partita Dieci miliardi di anni e mezzo Tu muori Ok Ok Con calma Raga Questa era amica O era nemica Era amica Però mi ha fatto fuori Un nemico Ok 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 con calma Raga Comunque La grafica è fighissima Raga La grafica Mi piace Un botto Eh 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 Va bene Fino a un certo punto Eh bomber Il nemico prende Charlie Poi no Mi inculi No raga La dinamica di mira Di questo gioco È bellissima No ve lo giuro Ve lo giuro E io sto usando il controller E io sto usando il controller Molto probabilmente Questa gente Sta usando il mouse Cioè La mira È fatta Da dio Cazzo 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 Poi raga Io non so Da quello che ho capito Si possono vedere anche i nemici Attraverso Cioè Cioè Tipo un radar Che ti indica i nemici Ma Non so Un cazzo Conquistiamoci Contatto Contatto No No Sono troppo zitto Raga Avete ragione Avete ragione A rimproverarmi Che sono troppo zitto No Intervallo Già finito Non leggete la chat italiani che sono italiani incredibile ma gli scrivo italiani much more better than ghost no ma non mi dire non mi dire meglio di ghost ma guarda bomber non ci voleva molto meglio di ghost oh mai nella vita proprio tu mi becchi però mi becca il tuo amico giustamente 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 cazzo che concentrazione che ci vuole in questo gioco troppa concentrazione ci vuole godonna che camper che camper siete tutti dei camperoni luridi questa cosa fa oddio oddio lo scudo rega abbiamo abbiamo lo scudo quello ancora camperato lì sicuro sicuro cazzo cazzo l'avevo preso l'avevo preso abbiamo giro rega oddio oddio sta facendo quello col drone le peggio stragi sta facendo quello nooo no come mi sono fatto sgamare raga no no non è possibile non è possibile non sto facendo niente però mi piace come gioco dire che non sto facendo niente dire poco non sto proprio facendo nulla zero boh boh oddio ma questa si può abbattere col coltello oddio raga come come vecchi code col coltello bellissimo bellissimo le torretti si abbattono col coltello fighissimo come vi ho detto non guardate vi prego 625 vi prego non guardate il mio punto vabbè è la prima partita rega è la prima partita con calma questi qui al massimo quanto saranno alla decima partita se giocano da mezzanotte ma poi io voglio capire ma che banda hanno questi se già io ho una banda veloce e l'ho scaricato 77 raga io vi dico solo che ho scaricato 77 giga questi che cazzo di banda hanno per averlo per aver che livello sono 13 18 c'è gente a livello 18 rega madonna basta 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 adesso è ora di fare stragi l'ho detto anche 10 10 morti fa ma adesso è proprio ora di devo guardare la mappa non guardo mai la mappa non guardo questo è amico eh che cosa sto facendo matte ti devi riprendere matte ci ultra oh bravo bravo riprenditi riprenditi ultra ultra ti devi riprendere ti devi riprendere ok 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 con calma con calma incominciamo a rifare le peggio stragi ah ok ok con calma io sto urlando madonna l'una e mezza di notte sto urlando come un pazzo squinternato ma non importa non importa per call of duty questo è altro assist no 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 mutunno 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 vi posso assicurare che molti usano il mouse è impossibile avere una precisione del genere col controllo cioè no vabbè impossibile no eh però è molto difficile oddio ho dato una laggata paurosa paurosa da dove dove sei lurido no l'ho preso eh l'ho preso allora raga già il fatto che che la vita è giusta mi piace un casino la vita è giusta eh ve lo dico già adesso le prime impressioni del gioco in diretta mi sembra ottimo a me sembra mi sembra veramente ottimo come gioco raga cioè io vi dico prima partita ho fatto 10 kill cioè gli altri hanno fatto 38 15 però livello 18 livello come faccio essere già livello 4 vabbè allora si sono a livello 4 probabilmente non hanno fatto molte partite gli altri vabbè comunque raga una partita ho fatto 4 livelli grado 1 non soldato propulsione furtiva livello 3 sparo vitto e basta voi sparate un colpo e crepo e crepo non so questo parla no no la potenza dell'arma usciamo dalla lobby raga boh come potete vedere 4 livelli in una partita ho fatto una merda mi sono divertito a bestia raga io boh io sono morto 30 volte mi sono divertito un sacco perchè comunque mi piacciono casino le dinamiche ci ho fatto una partita sola e comunque le dinamiche si vede che è proprio un gioco fatto bene non come code che secondo me non ha veramente una merda è proprio fatto bene come gioco quindi ragazzi mi raccomando spolliciate perchè questo probabilmente sarà uno dei primi gameplay in assoluto di call of duty advanced warfare per la day zero edition quindi abbiamo dei pacchetti nuovi poi io e mini scotch faremo altri video comunque ovviamente ci sarà una serie su questo gioco adesso mi farò il culo a strisce per portarvelo per domani quindi oggi alle 9 come al solito quindi ragazzi spolliciate condividete iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto e noi ci vediamo a un prossimo video